Sì, è un sogno di raggiungere, ma sono contenta. Quando ci hanno portato il pacco dei giocatori, quando gli è finito di chiudere l'abito, posso chiedere a altre ragazze di provare così al limite? Alessandra? We make reconstruction of costume, each costume you can find here is taken by picture and so you can choose the century and the rent or buy a costume of a particular century. Questo è lo strascio, lo strascio, sono tre metri, sono tre metri, sono tre metri, da quel qualcosa in più che proprio si ha voglia di uscire, farsi vedere, farsi ammirare, è bellissimo, proprio ci si sente quasi un'altra persona, è stupendo. Perchè comunque per noi è stata una perdita pazzesca perché non sono andata in olegio, non sono andata. Allora arriva qua, invece magari, e voi a che ore chiedete? Durante il carnaval puoi mettere una masca e tutti potrebbero parlare, non rispettiamo nessuna etica. Durante la renaissance è stato più importante perché un turista può parlare con un romano, con un germano, con un franzo, perché c'era una guerra grande tra questi paesi. Ma se hai una masca, puoi fare tutto ciò che vuoi, e nessuno può dire che sei. E' stato il perfetto città per fare questo, in realtà il carnaval è stato 6 mesi lungo. Quando hai una ricostruzione, hai una ricostruzione che non è sempre una ricostruzione. Il senso di venice è accettare e intercambi, non è proteggere. La città è stata una città che ha fatto 1,000 anni connessione con la città, con l'Ostra. Quindi, non siamo fatti di farlo di incontrare la tradizione con le elementi contemporanei, perché è quello che venice è sempre stato. Grazie a tutti.